Cosa si intende per piccoli calibri per canna liscia? Chiediamoci innanzitutto cosa sia il calibro. La misura del diametro della canna in senso stretto e in senso lato nel mondo del tiro è la tipologia di munizione utilizzata da un'arma. Insomma è come distinguere se una macchina va a benzina, a diesel o a metano. Il calibro più utilizzato nel mondo del fucile a canna liscia è indubbiamente il cosiddetto 12. Non solo, oltre ad essere di gran lunga il più diffuso, è anche il più grande detenibile nel nostro paese. Tutti quelli più piccoli, e quindi meno usati, sono i cosiddetti piccoli calibri. Storicamente ce ne sono tantissimi, ma possiamo individuare quelli più usati nelle competizioni sportive dei piccoli calibri. Il 20, il 28 ed il 36, anche noto come 410. Perché questi numeri sono matematicamente più grandi del 12 ma vengono considerati piccoli? Perché il mondo del tiro sportivo è fatto di tradizione e di storia, e questi numeri lo riflettono. Sono infatti il residuo di un metodo di misurazione che ha origine nel mondo anglosassone prima ancora del sistema metrico decimale. Per sapere, per esempio, il diametro di una canna di calibro 20, si prende una quantità di piombo dal peso di una libra inglese, all'incirca 453 grammi, e la si divide in 20 sfere uguali. Ognuna di queste sfere corrisponde al calibro 20, cioè una palla di piombo dal peso pari a un ventesimo di libra. Questo metodo di misura, in inglese definito gauge, a noi sembra assai controintuitivo, ma basti ricordare che numeri più grandi indicano in realtà diametri della canna, e quindi anche dimensioni delle munizioni, minori. Una piccola eccezione va fatta per il calibro 36, che è molto più noto come 410, non gauge però, ma millesimi di pollice. Giusto per complicarsi la nomenclatura. Ma una volta entrati in questo ordine di idee, la misurazione diventa più facile ed intuitiva. Dunque, qual è il motivo che ci spinge a scegliere un piccolo calibro rispetto a un classico e diffusissimo 12? I motivi sono tanti, possiamo di nuovo fare l'analogia della macchina. Non ci serve una macchina sportiva che va a 300 km all'ora per arrivare da casa al lavoro in città, anzi potremmo avere problemi a parcheggiarla e usare tantissimo carburante. Non sempre più grande, più potente e meglio. I piccoli calibri offrono tanti vantaggi. Il rinculo è minore, per cui il fucile è più controllabile. L'arma risulta più leggera, dovendo sopportare meno stress meccanico al momento dello sparo e avendo una canna di dimensioni minori. Il rumore è minore. Il numero minore di pallini nella munizione e la canna più stretta risultano in un tiro più preciso e concentrato. I piccoli calibri sono armi precise, eleganti, difficili, raffinate e anche meno costose in realtà. I piccoli calibri perdonano gli errori molto di meno di un calibro 12 e nelle mani di un abile tiratore riescono ad ottenere risultati strabilianti.